Salve ragazzi e ragazze, ho quello che è. Il mio nome è Capitan Jack Sparrow. Avrete sicuramente sentito di me. Come ben sapete ci sono momenti, in verità tutte le volte, in cui preferisco guardare il mondo attraverso una bottiglia. Room, come questa. E avrete anche sentito sussurri secondo cui Jack Sparrow sta reclutando una ciurma per intraprendere un viaggio alla fonte della giovinezza. Non è vero? Certo che no. Ma se non fosse non vero, a voi non interesserebbe unirvi a me?